Sindaco, lunedì ci sarà la visita del sottosegretario e sarà anche l'occasione per parlare del teatro romano? Sì, sarà una bella occasione da accogliere quella della presenza del sottosegretario alla cultura. Per me sarà davvero un piacere, un onore, evidenziare lo stato di avanzamento di questo progetto. Progetto che ricordo è nato nel 2010 per volontà del sottoscritto e di questa amministrazione, portato avanti con grande difficoltà, che ha visto poi il finanziamento da parte di Renzi di un milione e mezzo di euro, della fondazione e di qualche giorno fa la notizia datami dal presidente D'Alfonso che anche la regione ottempererà l'impegno preso. Quindi alla fine avremo i 4 milioni e mezzo di euro che sono quelli necessari per completare questo progetto di riqualificazione del teatro romano che ricordo è un progetto che prevede uno spazio all'aperto con 500 posti, quindi diciamo un teatro che possa ospitare manifestazioni importanti. Lunedì saranno presenti anche alcuni progettisti dello studio che sta definendo oramai il progetto, che è in fase conclusiva e quindi ci permetterà poi di andare presto a gara e finalmente di vedere l'inizio dei lavori. Quindi una bella occasione e io farò, diciamo, evidenzierò al sottosegretario quanto sia importante per questa città il progetto di riqualificazione e di recupero funzionale del teatro romano che passa, ripeto, ancora una volta e sottolineo attraverso l'abbattimento di Palazzo Salvone e Palazza Damone. In questo periodo sono in corso però anche i lavori per la riqualificazione del Castello della Monica? Sì, sono in corso i lavori, i lavori anche questi molto importanti perché vanno a concludere quel percorso urbanistico-architettonico iniziato tanti anni fa quando io ero assessore ai lavori pubblici. Tra l'altro nella modifica del masterplan approvata questa settimana dal Consiglio Comunale ci sono ulteriori fondi, abbiamo chiesto al Presidente D'Alfonso e quindi al Governo la modifica del masterplan con i soldi che erano destinati alla Funivia per destinare questi fondi proprio al Castello della Monica perché così riusciamo a completare anche il recupero del terzo piano e del quarto piano in modo da completare nella sua interezza il recupero del Castello della Monica che è un altro bel progetto. Io ricordo che l'anno scorso venne da Vigo e con lui definimmo questo sorta di spazio destinato ai bambini diciamo un po' quello che può essere un nuovo modo di interpretare gli spazi della cultura e quindi anche su questo abbiamo un'idea progettuale, un progetto, le risorse per concludere un percorso.